Allora, Luca Venturelli, lei è l'ultimo rimasto da interrogare e c'è ancora una cosa che non ci è chiara. Ci dicono che questo disco sarà realizzato tramite crowdfunding insieme ai vostri fans. Sì, confermo. Ma che storia è questa? Che una band come voi non ha nemmeno soldi per fare un disco. No, cioè, no. Non volevamo fare il solito album, ma faremo un disco di cover delle sigle e dei cartoni animati. Visto che ce lo chiedono da diverso tempo, volevamo fare qualcosa di originale insieme ai nostri fan. Sì, sì, certo, dicono tutti così. Ma poi voglio sapere perché mai una persona dovrebbe aiutarvi comprando il disco prima che sia realizzato? Ma perché contribuendo alla campagna Music Racer avranno diritto, i nostri fan, a cose esclusive, incredibili. Ad esempio, faremo delle t-shirt personalizzate proprio per i racers e addirittura potranno scegliere proprio che cosa farci registrare come sigla, magari anche la loro preferita. Wow, incredibile! E mi dica, come si fa a partecipare a questa campagna? Semplice, bisogna andare sul sito musicracer.it e cercare la campagna Trick or Treat. Ma sarà? Comunque, ora se ne può andare. Ho già perso abbastanza tempo con voi. Vada, vada. Vediamo. Credo proprio che ordinerò questo benedetto città. E magari vi faccio pure registrare chi smiligia. Ho, 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 ho... Sì, non è vero, non è vero. Grazie a tutti.